Cosa resta della passeggiata a Porto Scala a Torre del Greco? A giudicare dalle immagini poco e niente. Le violente mareggiate di questi giorni hanno letteralmente distrutto quel poco che già restava, rendendo il sito inaccessibile. Come testimoniano le riprese effettuate questa mattina dalle nostre telecamere, la passeggiata è invasa da detriti, massi, pezzi di legno e plastica. Un colpo d'occhio penoso che lascia spazio all'amarezza. L'opera voluta dall'amministrazione Borriello, inaugurata nel 2016 e finanziata con i fondi più Europa, è andata letteralmente in fumo. In questi anni non sono stati fatti interventi di manutenzione per evitare uno scempio simile, lasciando tutto nel degrado. E in caso di avverse condizioni meteorologiche il copione si ripete. Senza infatti una barriera di protezione non si riesce a contenere la furia delle onde. Le doghe in legno sono ormai completamente distrutte. Le pietre sono arrivate fino al molo di Ponente. Inaccessibile anche la zona delle giostrine di via Calastro, abitualmente frequentata da mamme con bambini. E lo scenario non è dei migliori anche dal lato della zona parcheggio. I danni oggi sono ingenti e l'amministrazione prova a correre ai ripari. Sopraluogo infatti questa mattina dei tecnici del comune per ripristinare l'aria e mettere in sicurezza tutta la zona. Con l'ausilio dei mezzi doni si sta provvedendo in queste ore a raccogliere i massi e rendere il sito praticabile. Per quanto oggi purtroppo possibile.